I fatti sono avvenuti nell'accorso della tarda serata di ieri in via Bonomi in pieno centro a Mantua. Le successive attività di indagine hanno consentito di rintracciare in breve tempo l'autore del presunto omicidio il quale è stato fermato a bordo di un treno diretto verso la provincia di Verona. Il soggetto non appena è stato fermato a bordo del treno alla vista dei carabinieri non ha opposto l'esistenza.